Nella malinconica giornata in cui la cara Matilde Ferragni ha lasciato la famiglia Ferragni. I Ferragniet si trovano riuniti a casa sul lago di Como, con la sorella Francesca. Mentre i Gucinetti Vittoria e Edoardo giocano spensierati, ignari della triste perdita della dolce cagnolina Matilda, i genitori vivono un profondo dolore. Tuttavia, in queste circostanze difficili, la vita ci insegna che bisogna andare avanti. La perdita di un amato animale è un'esperienza dolorosa, ma fa parte del ciclo della vita. La famiglia troverà la forza di superare questa prova, mantenendo vivo il ricordo di Matilda nei loro cuori. I momenti trascorsi insieme, i ricordi felici e l'amore condiviso resteranno per sempre con loro. Ogni passo avanti sarà un omaggio a Matilda, la cagnolina dolce che ha lasciato un'impronta indelebile nella loro vita. Grazie a tutti.